Per la puntata di oggi di OnStage parleremo di veicoli commerciali e nello specifico presenteremo il Peugeot Partner. Partner è disponibile con motorizzazione 1.2 benzina da 110 cavalli oppure motorizzazione diesel 1.5 da 100 o 130 cavalli. Abbiamo anche la versione elettrica con pacco batteria da 50 kilowatt. Peugeot, per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, ha pensato al nuovo partner in due differenti lunghezze. La prima misura, da 4,40 m, offre un pianale di carico da 1,80 m, 2 Euro pallet. E per i più esigenti, versione con pianale di carico aumentata a 2,10 m. Grazie a un apposito sportello e abbassando il sedile passeggero anteriore, creiamo la possibilità di trasportare carichi più lunghi. Opzionale è disponibile anche una comodissima telecamera che permette sia la visione posteriore che la visione dallo specchietto laterale. Comandi al volante e viva voce Bluetooth disponibili di serie. Disponibile su richiesta il touchscreen comprensivo di navigatore. Se stavate pensando di passare al veicolo elettrico, è questo il momento giusto poiché sono partiti gli incentivi statali. Approfittandone potrai risparmiare fino a 6.000 euro. Tutta la gamma commerciale del gruppo PSA, Opel, Citroen e Peugeot la trovi a Genova da GECAR, concessionaria del gruppo G.